amici conoscenti le persone che frequenti non solo dovrebbero essere in sintonia diciamo con i tuoi ideali con i tuoi valori con le cose nelle quali tu credi ma dovrebbero avere degli standard personali più alti dei tuoi perché se tu stai insieme a delle altre persone che tollerano degli standard più bassi di quelli che tu adotti qualsiasi cosa nel come gestire la loro disciplina personale nel come ordinare organizzare le cose nel come dialogare nel come spendere il loro tempo nel come mangiare se le persone che ti circondi di cui ti circondi hanno degli standard più bassi dei tuoi tu scenderai i loro standard quindi se tu vuoi alzare i tuoi standard se io voglio alzare i miei standard io penso che posso solo che guadagnare dal fatto di dal fatto di circondarmi di persone che che abbiano degli standard più alti dei miei che abbiano dei valori etici morali che abbiano degli obiettivi degli ideali più alti dei miei io penso che se mi circondo di questo tipo di persone io non posso altro che migliorare che essere più felice contento ispirato facile a dirsi meno facile a farsi ma è già importante rendersene conto quindi se puoi fare qualcosa riguardo fallo io sono già in marcia